Se ci fossero dei dubbi, la coreografia preparata per Vicenza, Roma chiarisce che l'obiettivo è la Coppa UEFA. Avvio a tutta birra, il rientrante Grossi confeziona un traversone, al colpo di testa di Murgita si oppone Cervone in due tempi. Gara spettacolare, Roma pericolosa con Tern, grande risposta di Mondini e con Anoni, palla sulla traversa. Il Vicenza aumenta il ritmo, la Roma è in affanno, il tiro di Ambrosetti è ancora insuperabile, Cervone che capitola però al 27esimo. Lancio di Viviani, correzione aerea di Maini, tocca il portiere Mautero in agguato, spinge in retro. Maini prova ancora il tiro a volo, esecuzione da applausi, mira da rivedere. A tempo scaduto il fattaccio, Grossi trattiene fuori area Fonseca, l'arbitro accorda il rigore e dopo qualche esitazione espelle il Vicentino. Dagli 11 metri Fonseca fa centro, passa un minuto corpo a corpo tra Bjorklund e Fonseca. L'arbitro punisce il Romanista che protesta platealmente e viene espulso. Ripresa il Vicenza sbanda, rischia di capitolare, ma si riorganizza e torna in partita. Rossi ci prova due volte ma trova Cervone e Petrucci sulla sua strada. Quando la Roma resta in nove per l'espulsione di Del Vecchio diventa un monologo. Bianco Rossi avanti in cerca dei tre punti. Cervone dopo vari salvataggi capitola a conclusione di una splendida azione bianco-rossa. Cross di Sartor, correzione di Maini, tiro di Lombardini e sulla ribattuta Murgita. Trova la coordinazione per fare centro di testa. Nel finale dopo che il Vicenza ha avuto varie occasioni per fare tris, Di Biagio spreca il pallone del pareggio e poi tutti sotto la curva. Abbiamo come obiettivo raggiungere il massimo delle nostre potenzialità e lo stiamo facendo credo, quindi ne parleremo fra un paio di domeniche quando sarà la cosa un po' più vicina. Siamo in alto, siamo lì, abbiamo le grandi a un soffio. Per noi è un sogno, speriamo che possa concretizzarsi.